Idral nasce nel 1970 come impresa artigianale nel settore della rubinetteria. Da allora l'azienda si è specializzata nella rubinetteria e sanitari per ambienti pubblici, diventando un punto di riferimento nel settore. Oggi è presente in più di 60 paesi in tutto il mondo, che rifornisce attraverso la produzione realizzata nello stabilimento di 12.000 metri quadrati, dotato delle tecnologie più all'avanguardia. I ristoranti, le palestre, le scuole, gli ospedali sono spazi aperti al pubblico che hanno necessità peculiari e che, dopo più di 45 anni di esperienza, il team di Idral comprende profondamente. L'igiene e l'accessibilità sono requisiti fondamentali in questi ambienti, ma questo non implica che debbano diventare spazi freddi e impersonali. Pertanto Idral combina il design italiano e la funzionalità per creare soluzioni confortevoli, sicure e idonee anche per gli utenti con mobilità ridotta. Lo spreco di acqua in questi spazi può rappresentare un 50% in più rispetto all'ambito domestico. Per questo Idral si impegna costantemente nello sviluppo di rubinetti e ceramiche a basso consumo di acqua che permettono di ottenere un importante risparmio economico, oltre a ridurre l'impatto sull'ambiente. Ma quello che rende speciale Idral è che è in grado di ascoltare, appoggiare e rispondere alle varie esigenze dei distributori, dei produttori, dei progettisti e degli installatori. Per Idral è semplice essere coinvolti dai clienti, consigliarli al momento della scelta e aiutarli a realizzare il progetto in modo facile ed efficiente. Un competente ufficio tecnico è in grado di progettare articoli per richieste specifiche e di fatto lavora costantemente per sviluppare soluzioni personalizzate per i clienti che ne fanno richiesta. La stretta connessione tra progettazione e produzione garantisce risultati in termini di prestazioni, affidabilità e costi. Considerato che gli ambienti pubblici hanno bisogno di prodotti con prestazioni superiori, per fare fronte all'uso intensivo, Idral offre soluzioni con elevati standard qualitativi, collaudando gli articoli nei propri laboratori in condizioni estreme. Certificazioni internazionali attestano l'alto livello della produzione interna. Gli agenti Idral operano sull'intero territorio nazionale ed anche all'estero. Inoltre una fitta rete di assistenza è in grado di intervenire in tutta Italia. Idral lavora costantemente per la soddisfazione dei propri clienti e questo è il motivo che spinge il team ad essere sempre al loro servizio e a continuare a studiare per loro soluzioni integrali, flessibili ed efficienti, adatte alle necessità degli ambienti pubblici. Centinaia di clienti preferiscono rivolgersi a Idral per la serenità di lavorare con un partner di fiducia, non con un semplice fornitore. Idral. Unit Partner for Water Solutions.